La mia azienda nasce negli anni 60 ed è la terza generazione. Nel nostro stabilimento, oltre ad avere una linea di produzione di manufatti in cemento, rivendiamo quello che riguarda la finitura e la realizzazione di murature di vario genere. Le linee di prodotto di Heidelberg più richieste sono il cemento in sacchi 325, il cemento bianco in rocca bianca e l'ali flash come cemento rapido. Gli aspetti più convincenti di Heidelberg Materials sono soprattutto l'attenzione alla sostenibilità e al mercato. In più non è da meno l'iblazione del brand che per quanto riguarda il mercato della mia zona è molto richiesto. I manufatti in cemento che noi produciamo sono manufatti da costruzione, inteso blocchi in cemento e dei tubi per le condotte di acque potabili. I prodotti che noi usiamo per la prefigazione sono gli inerti base che sono la sabbia e la graniglia e non da meno il cemento sfuso per assemblare i cosiddetti manufatti. Sicuramente con il cambio di ragione sociale le opportunità di ampliamento della loro produzione ci sarà sicuramente e soprattutto ci aspettiamo un aspetto migliore riguardo alla sostenibilità e all'apertura al mercato in genere. Grazie per la visione!